Devo dire che cantare qui nella piazza in cui, in cui, anch'io esco quando sono a Lecce, insomma, è una... Siamo cresciuti! È vero, dove siamo cresciuti, insomma, tutte le sere, da quando, quindicenni, facevamo le vasche qui in Via Trinchiese, chi non le ha fatte? Insomma, poi, ritrovarmi su un palco del genere, con tutta questa gente di fronte, per me è un grande traguardo essere qui questa sera, grazie mille. Poi, tra l'altro, quel signore che sta lassù, si era messo in sfida con me ai tempi del liceo, perché ovviamente voi sapete che era così. E io avevo il professore di matematica al liceo, e io andavo al magistrale qui vicino a Siciliani, alzi la mano chi c'è del magistrale, dai! Eh, guarda, non ci credo tu, se ne avevamo contati i maschi, erano tutte donne, che alzi la mano? E, insomma, era diventata una costante, quando portava in classe il compito corretto, non diceva neanche il voto del professore, faceva maggio, santuronzo. Vabbè, capita, ho avuto altre soddisfazioni. E' un po' che ti dice, moni.